D2T Start Cup è il concorso promosso da Trentino Sviluppo che per il decimo anno premia le idee di imprese innovative. Se hai un progetto d'impresa nei campi della meccatronica, del green o dell'ICT applicato, questa è la tua occasione. Partecipare è facile. Possono presentarsi gruppi di almeno due persone. D2T assegnerà 20.000 euro e un periodo di pre-incubazione gratis ai primi classificati di ciascuna categoria, più un premio speciale da 5.000 euro. Per accedere al premio in denaro, la start-up dovrà essere costituita entro il 6 settembre 2018. Ma non è finita. I vincitori potranno partecipare al Premio Nazionale dell'Innovazione che si terrà dal 30 novembre al primo dicembre a Napoli. La Commissione verificherà i requisiti formali delle proposte prevenute. Gli ammessi dovranno partecipare obbligatoriamente e gratuitamente a un percorso di pre-incubazione e coaching all'interno degli spazi di co-working di Trentino Sviluppo, Greenhouse Starter, o KIT, Hub Innovazione Trentino. La giuria selezionerà un massimo di 6 progetti finalisti per ciascuna delle tre categorie che parteciperanno a una giornata di formazione con un esperto di fama internazionale. I progettisti finalisti si sfideranno a colpi di pitch nella giornata finale che si terrà il 24 di ottobre 2017. Durante la finale, la giuria stilerà la classifica definitiva e proclamerà i progetti vincitori delle tre categorie e del premio speciale. Per partecipare è necessario iscriversi entro le 12.30 del giorno 18 settembre 2017 compilando l'apposita documentazione in formato elettronico. Per informazioni consultate il sito www.trentinosviluppo.it www.trentinosviluppo.it www.trentinosviluppo.it